Il centrodestra regionale vicino al sindaco Masci, condividendo le scelte circa la decisione di costituirsi parte civile per tutelare gli interessi dei pescaresi. Sulla vicenda rimarca la gravità di ciò che sta emergendo dalle indagini della procura sulle attività illecite e che vede protagoniste persone interne ed esterne alla macchina amministrativa del comune. In una nota congiunta, i coordinatori regionali del centrodestra Abruzzo, l'onorevole Sigismondi, Pagano e il sottosegretario d'Eramo, Di Giuseppe Antonio e Tancredi, riconoscono le azioni svolte negli ultimi anni e l'impegno circa l'intervento senza precedenti contro la malavita locale, raggiungendo l'atteso risultato di definire l'abbattimento del ferro di cavallo quartier generale dello spaccio e della delinquenza. La lotta al malaffare insita nel DNA del centrodestra secondo quanto dichiarato e sarebbero inutili quanto vili tentativi delle opposizioni centrosinistra volti alla strumentalizzazione di quanto accaduto per attaccare il sindaco, la sua giunta e la sua maggioranza.